Mentre che all'anno prima notte sulla città, gli hooligans ungheresi con il nostro coperto stanno mettendo a ferro a fuoco la città nel più pieno stile impero romano calata dei barbari, io mi chiedo dove siano tutti gli ammiratori dell'impero romano che oggi avrebbero un'occasione per indossare le loro armature. Alberto Angio, che è tanto amante dell'impero romano, mi aspettavo di vederlo qui con la sua... qui sto io, eh? La via il gamma ma sarebbe fidarsi a questi. No, va bene, ma tanto Firenze cosa ci avrà da perdere? Anche perché sono particolarmente stupidi, ma molto stupidi, perché loro speravano di venire nel centro di Firenze e incontrare dei fiorentini, che non ce ne sono da decenni, sono solo turisti cinesi, o fanno uno scontro con i turisti americani, perché non c'è un fiorentino dentro il centro storico, quindi non hanno... non è molto senso la cosa. Ma naturalmente i barbari non hanno molta intelligenza, si sa, non sarebbero barbari, nel senso che è ovvio che il barbaro è barbara. Però io sono dei pochi... non sono proprio fiorentino, non neanche tipo viola. questi barbari devo spiegare che sono della barbari di chiara a lui, ma sono un gherese. Io mi asciudavo il di chiara. Sì, ma ho proprio... Andiamola a ridere, vai? E vabbè. Non dovrebbero essere fatti entrare nel centro storico, perché a parte non ci sono fiorentini, ma se distrugge una statua, vabbè. Io non ho una idea, no, no, vabbè. Ma questa è un'altra storia, direi invece, se domani non mi vedete più, sono caduti in battaglia a Tuttuburgo, lì, con l'armatura. Eh, ma che sono barbari, eh, so. Eh, vabbè. Ma io sono della Val di chiara. Non sono in Firenze. Sembra un fumetto di Asterix a scarpe da tennis che mi hanno lavorato nelle serie. Asterix Legionaria, che mi sembra essere finito in un fumetto di scarpe da tennis. Ma parliamo dei Metici Fantastici Quattro, che ovviamente vengono ripubblicati a prezzo non altissimo dalla Gazzetta dello Sport, 8,99. Questo è un numero, sono dei numeri imperdibili. Allora, io, qui la storia è una saga, perché le saghe le ha inventate la Marvel, la DC, perché, come ho già detto in altri video, è ovvio che nell'universo di Stan Lee, a parte mondi fantastici, quindi gli Skrull, o gli Skull, o gli Skull, non mi ricordo più se erano Skull o Skull, ah, di Skrull, vedete lo Skull che arriva sul laboratorio fantastico, dai, you are dogs, the scorcher, rules are supreme, questo capisco, muori, eh, cane terrestre, io non parlo anche in inglese, gli Skrull avranno il ruolo supremo, saranno i dominatori dell'universo. Non so cosa rispondere a Richard, le copertine sono ovviamente Originals, e quindi erano le vecchie copertine, vabbè, del 79, Fantastic 4 dal 204 fino al 209, e poi ritornerà in in scena un personaggio che io adoro, a parte Herbie, Herbie il robot che non c'è qui, perché sapete, nella serie a cartone animati, dei Fantastic Four, la torcia che aveva anche un'altra serie, venne sostituita da Herbie, da questo robottino che nasce, insomma, da Herbie, eccetera, eccetera, che poi diventerà molto malvagio, impara a dire le parolacce, e si ribella contro gli uomini, ma qui è proprio la fase iniziale, quindi aiuta i Fantastici Quattro, Pesce Nova, Supernova, c'è un sacco di personaggi, la Sfinge, che è anche questo, l'imperatore degli Skrull, la perfida Krilla, Regina Krilla, molto stile Guerre Stellari, ovviamente se non amate Guerre Stellari, qui siete nel vostro brodo cosmico, nel vostro brodo primordiale, nel vostro universo. Adesso, a me, io, insomma, mettetela veramente, se io capisco, Lemnon mi sta cercando di convincere a leggere Bersi, che ho letto il numero uno, ma devo trovare il numero due, se non mi riesce a cosare, questi sono i barbari, i barbari, bene, i barbari, abbiamo i barbari, i barbari, i barbari, i barbari, come va la nostalgia dell'impero romano, la ribeccata, e noi i barbari, i barbari, bella roba, mi faceva il cammino, inanzi che necchi, e ci difende un'ardella, ma, ma lo vedo un'ardella, lì qua, con la sciabola, lì, che tappa, lì tappa, ma, io non ci credo, cioè io, purtroppo, vivendo in Italia, devo credere a cose che voi umani, e ci vorrebbero di credere, che non c'è, quindi, i supereroi, purtroppo, non arriveranno, i Fantastici Quattro, a salvare Firenze, e va bene, no, dicevo, mettetevela come vi pare, ma io questi disegni li adoro, questi sono di, la storia è molto bella, di Wolfman, e il disegno di Kate Paul, e Joe Sinnott, sono i classici Fantastici Quattro, qui, ovviamente, c'è già il figlio, inizia ovviamente, con il vecchio Ben, la roccia, insomma, la cosa, scusate, allora, tra i personaggi comici, divertenti, perché poi, nei Fantastici Quattro, ieri abbiamo parlato di Zhao, no, Cico, era un po' l'elemento comico, ma nei Fantastici Quattro, erano dosati i personaggi, in maniera abbastanza interessante, c'era, la Torcio Mame, la sua sorella Su, che è la sorella maggiore, che un po' gli fa da mamma, la roccia, che comunque, come dire, noi da bambini lo adoravamo, credo che tutti da bambini fossimo innamorati, in senso buono, della cosa, con le sue mitiche battute, le sue mitici sigari, via di qua, un pezzo tipo Bud Spencer, era tipo il Bud Spencer dei fumetti, ecco, sono quei personaggi lì, che oggi sarebbero tutti totali, scottical, political, scorrectly, e non lo so, dicevo, lei non voleva conoscere, no, ha letto il numero uno di Berserk, mi ha messo un po' di depressione, devo dire, cioè, voglio dire, i disegni di, che sono tutte, per me danno, anche, vabbè, mi danno un senso di, di gioia, di libertà, di ritorno all'infanzia, cioè, per me, veramente, più che Zagor, e Tex, il ritorno all'infanzia, sono questi numeri, dei fantastici quattro, e, dicevo, il personaggio che io adoravo, da bambino, era soprattutto lui, che apparirà nei prossimi numeri, non Erby, ma è il mitico Galactus, cioè, Galactus, anche disegnativamente, io l'ho sempre adorato, Galactus è, il villain che ho amato, più di tutti i villain, che dici, sono dei villain, che c'è proprio il mio, anche Thanos, mi piaceva tanto, ma mi piacevano molti cattivi, ecco, ho passione per i cattivi, no, dicevo, anche questo numero, ovviamente, i fantastici quattro, a volte hanno delle separazioni, in questo caso, è la tors, vedete, la copertina, la tors, che ovviamente, mentre la cosa ha avuta, la sua relazione, con, con Crist, non mi ricordo, mi si chiamava fidanzata la cosa, che poi tutti ci si chiede, io poi tutti ci si chiedeva una cosa, ecco, cioè, nel senso, beh, capisco che era cieca, ma, insomma, la domanda indiscreta era, come facevano roba, la, la cosa, e la sua fidanzata, cioè, basta, era un amore platonico, suppongo, su questo, io mi ci sono, arraballato, dal ragazzo, cosa pensavo, diceva, diceva, immagino, se lo posso dare, ma, quando andavano, un po' più nell'entimità, come cavolo facevano, queste erano le domande, che mi facevo, dal ragazzo, naturalmente, non pensando, che erano, dei personaggi, di fumetti, e quindi, la mia domanda, era totalmente cretina, ma, io, non ho mai affermato, di essere molto intelligente, quindi, ora, stasera, anche stasera, vado a letto presto, poi, la settimana prossima, questa settimana, abbiamo avuto, il collegio docenti, da settimana prossima, i consigli di classe, di cui sono anche, il coordinatore, mi sento magda, non ce la faccio, perché, poi, siamo partiti, quest'anno, boh, non lo so, poi, sono vecchio, vecchi anni, non lo so, dicevo, al mio amico, scozzese, mi ha chiesto, dei consigli, sulla scuola, dice, sei esperto, sono 23 anni, sono nella scuola, sono esperto, sì, ho 23 anni, che navigo, con PDP, con Pay, PDP, POF, ho 23 anni, di Pay, PDP e POF, che sembra il nome, di Puffi Ungheresi, ma non sono, Puffi Ungheresi, sono documenti, Pay, PDP, POF, piano delle attività, e Tring, e la gente, che a me, sono proprio, dotto le scatole, no, ma poi, i ragazzi, anche con quelli difficili, oggi sono, riuscita con, no, ma, dovrei andare via, dalla scuola, per un motivo semplice, anche a volte, vedo delle cose, che, anche i ragazzi, li vedo abbandonati, a se stessi, no, ma, che vi devo dire, cioè, veramente, vorrei un lavoro, al catastro, perché, puoi vedere le cose, ma, perché, perché entri, in contatto, con realtà umane, cioè, nel senso, molte persone, ognuno vive, nel suo ambiente, no, voi vivete nel vostro ambiente, i ricchi stanno con i ricchi, e i poveri con i poveri, diciamoci la verità, se appartenete a una classe alta, irrispettabile, non le frequentate, gli immigrati bengalesi, cioè, ecco, sì, gli immigrati, stanno nei loro, nei loro brutti, ma, come facevano gli italiani, all'Italia, insomma, ma, io devo vederle, queste cose, devo vedere tutto, un mondo, peruviani, bengalesi, ma, tutti questi ragazzi, gli offriamo, veramente, poco, nel senso, ma, non è questione, veramente, non è gli ussoli, cioè, dobbiamo offrire, un'educazione migliore, una scuola migliore, e siccome io non sono Dio, non ho poteri magici, non posso fare miracoli, cioè, poi facciamo il corso della sicurezza, che se ci crolla la scuola, la sicurezza va a farsi bene, e tutto questo, allora, dovresti attuare un mood, a tirare a campare, però, a me non mi riesce, tanto, perché poi mi ci, non lo so, io prendo sempre le cose, molto sul personale, naturalmente, avendo avuto un'infanzia disgraziata, non posso far finta, che certe cose, non c'è, nel senso, certe cose, mi cintigno, ma, mi ci, non riesco, vabbè, questa è un'altra storia, e quindi, mi ci voglio, i fumetti della Marvel, perché io adoro questi disegni, anche le storie, in questo fumetto, dall'altro, penso un po', per la tramontana, tra i Hurigans, ungheresi, in questa storia, ovviamente, c'erano tutte le, le varie sottotracce, mentre i tre fantastici quattro, la cosa, dopo aver tentato di capire, come lui e Cristal, o come si chiamavano, facessero roba, che io non riuscivo a immaginarmi, non riuscivo a capire, anche, mi so sempre, qui entriamo, del pecoretto, che stava dicendo, cioè, io ho detto, ma, vedere la roccia, la cosa nuda, che cosa saltava fuori, cosa, come era, ma era una cosa scientifica, ecco, mi veniva, dov'è, lasciavo perdere, e, in realtà, poi, la cosa, si bilanciava, con John Storm, che è ovviamente il bello, che in questo caso, ha una crisi di identità, vuole finire l'università, giustamente, e come vai all'università, e alla mattina, ti alzi, ti trasformi in torcio umano, arrivi alla lezione, spingi la torcia, anch'io voglio entrare in classe, e così, e incontra l'uomo ragno, dove c'è il monocolo, dei tanti cattivi, di Spider-Man, che ha ipnotizzato, tutta una scolaresca, per tutta un'università, per trarne, ma quanto sono belli, questi disegni, quanto sono belli, ma quanto sono belli, a me piacciono, e quindi, c'è la sottotrama, di John Storm, che cerca il suo destino, anche lui, avrà varie fidanzate, quindi, è un po', ripeto quello che dico, per chi seguiva, i fantastici fumo, era tipo una telenovela, cioè, nel senso, Stan Lee, aveva anticipato, cose che oggi, il fumetto manga, cioè, che molti credono, certe cose, le abbiamo inventate, il fumetto manga, no, non le abbiamo inventate, perché, mentre, possiamo dire, il fumetto italiano, è statico, questo è conno, vabbè, ne parlerò di conno, è statico, è statico, nel senso, avete visto, ancora oggi, quando si stava ancora a discutere, cioè, nel fumetto americano, ecco, poi, non vorrei dire, non è questione di meglio o peggio, per gli italiani, ovviamente, secondo me, andrebbe cercato, un giusto bilanciamento, a volte, gli americani, sono troppo, il fumetto italiano, statico, qui siamo, negli anni 60, non ci siamo mossi, cioè, la differenza fondamentale, del fumetto americano, e dell'italiano, è quello americano, i personaggi evolvono, hanno storie, hanno amori, a volte, appunto, per vari periodi, in certe storie, l'uomo ragno, ha sostituito la torcia umana, come membro, i fantastici quattro, addirittura, una serie a cartole mati, c'era Erbi, il computerino, quello che faceva, ricordate i cartole mati, in realtà, non c'era la torcia, c'era Erbi, prima che diventasse, prima che imparasse le parolacce, dopo che ha imparato le parolacce, è andato male, come a me, e anche questo canale, sulla sindrome di Erbi, probabilmente, però, voglio dire, anche le sottotrame, della torcia, della cosa, insomma, dei suoi amori, a volte, la cosa, tornava uomo, tornava bene, non parlava, solo che da uomo, non compicciava nulla, come supereroe, quindi lo faceva sempre, ritornare la cosa, però, mentre qui, guardate, se guardate, questo fumetto, 70 anni fa, era così, a parte, sto uscito, e 70 anni dopo, è così, non so quanti anni, c'ha alzato, 70, eccetera, eccetera, però, veramente, non c'è, credo che, secondo me, è ovvio, a volte, alcune trasformazioni, Spider-Man, non c'è, nel senso, la Spider-Man ha litigato, ferocemente, mi si dice, con i Fantastici Quattro, mentre Spider-Man, per un certo punto, aveva fatto domanda, per entrare, nei Fantastici Quattro, ha fatto proprio il concorso, allora, concorso, ha fatto il concorso, non l'ha passato, perché gli potevano dare una paga decente, non si capisce, la Reger costruisce un grattacielo, così, poi non c'è soldi per pagare, l'uomo ragno, ma niente corte, cioè, le bracci niente corte, secondo me, è un po' tutto imparentato, perché, sono tutti imparentati, l'uomo ragno, e poi, anche negli Avengers, quindi, l'uomo ragno, diceva vari impegni, poi l'uomo ragno è un eroe solitario, infatti, non ci poteva entrare, non ci sarebbe stato bene come, anche perché, John, John Storm, è il fratello di Sue, eccetera, poi, vedete, appunto, nei Fantastici Quattro, Sue, Sue, e, John Richards, hanno avuto un figlio, quindi, certo, cioè, questo, se parliamo degli anni settanta, cioè, già negli anni settanta, i Fantastici Quattro, John Richard, di Sue Storm, hanno avuto un figlio, e il figlio cresce, quindi, c'è una trama, in continua evoluzione, mentre, Zagor, provate a fargli un figlio, gli zagoriani, altro che gli uri, gli ungheresi, li mettono sotto a sé, della Bonelli, vanno lì, con le, con le asce, le asce di guerra, però, ovviamente, voglio dire, però, voglio dire, prima ancora dei manga, è stato il fumetto americano, a inventare queste trame, sì, era molto telenovela, nel senso, il personaggio, nel senso, il fumetto americano, è un po', in mezzo, il fumetto statunitense, sta a mezzo, tra il manga, e il fumetto italiano, perché il fumetto italiano, è immobile, è come il colosso, è come la sfingia, non si muove, cioè, Tex è lì, e farà sempre Tex, Zago è lì, e farà sempre Zago, finché qualcuno, che girà, bene, i giapponesi, fanno delle, cioè, delle saghe, ma poi, i personaggi, li mandano in dismissione, nel senso, da Berser, che è morto di l'opore, ma insomma, poi anche, a parte One Piece, che dura da vent'anni, quindi, One Piece, mi sembra Zago, lo Zago giapponese, ecco, però, tendenzialmente, a un certo punto, un autore, affronta una serie, e poi, chiude la serie, e ne crea un altro, cioè, a parte anche di Dragon Ball, non è vero, perché poi, ne hanno fatti talmente tanti, cioè, quando poi, scusate, quando poi un personaggio, ha successo, prima di farlo fuori, anche in Giappone, ci pensano, però, in teoria, molte serie, cioè, molti personaggi, fanno il loro percorso, come un percorso vitale, e poi, spariscono, mentre, ovviamente, i frumenti americani, negli anni 80, a parte, morivano, anche, molti personaggi, sono morti, dagli X-Men, era una strage continua, però, anche personaggi, di serie storiche, morivano, a volte, le suscitavano, ma alcuni personaggi, sono proprio morti, come Capitan Marvel, mi sembra, che è morto, quindi, cioè, voglio dire, la morte, entrava pesantemente, nei frumenti americani, dove, non, beh, la morte è entrata, anche in Zagor, ma è entrata, in maniera, nel senso, che è morto, vabbè, diciamo, perdere, quindi, quindi, a volte, i personaggi, vennero fatti morire, oppure sparivano, oppure riapparivano, insomma, poi, i disegni, sono veramente, cioè, io, questi disegni, mi piacciono, li adoro, cioè, ovviamente, queste copertine, di Kate Paul, e Jocelyn, che mi fanno morire, naturalmente, è ovvio, che oggi, è cambiato, completamente, lo stile, cioè, gli americani, hanno, non solo, hanno modificato, hanno modificato, lo stile, c'è un, Batman, per il Batman Day, c'è un Batman, accartonato, ma, c'è tutta, un'altra roba, quindi, non lo so, nel senso che, voglio dire, si può, nel senso, io, bisogna capire, che forse, il fumetto, è una sorta, è lo specchio, di una nazione, cioè, l'Italia è così, l'Italia è come Zavo, immobile, cioè, l'Italia è come Zavo, io sono sicuro, veramente, sono sicuro, che Sergio Bonelli, forse alla fine, avrebbe anche ucciso Zavo, perché a un certo punto, l'avrebbe mandato in pensione, forse, ma, insomma, mi viene, parte, però, voglio dire, in Italia, l'idea del fumetto è così, è statico, come un paese è statico, dove tutto rimane statico, dove l'insegnamento rimane statico, lo vedo nella scuola, dove i cambiamenti sono solo di forma, poi di facciata, poi dentro rimane tutto, diciamo, dei morti viventi, delle mummie che si muovono, gli americani, no, gli americani sono dinamici, quindi, a volte, sbagliando, anche flamorosamente, però, voglio dire, anche il mondo del fumetto americano, e mutato, inseguendo il tempo in cui viveva, cioè, una cosa così, in America, non avrebbe senso, cioè, rifare, cioè, se qualcuno rifacesse le storie, con dei personaggi, questa è la Sfinge, no, la Sfinge, sì, la Sfinge, sì, la Sfinge, che è uno dei villain, sì, vabbè, è nato nell'antica eviguita, vabbè, tutta, era uno dei sacerdoti, che si ero opposto a Mosè, pensate, in cui dove andare a prendere la roba, stanno lì, ma, se non la storia da Sfinge, beh, poi era tutta un'altra storia, però, voglio dire, a parte queste saghe, che questi personaggi, appunto, secondo me, anticipano anche i giapponesi, perché c'è, comunque, nei Fantastici Quattro, ci sono varie, cioè, varie evoluzioni, del personaggio, anche se, ovviamente, c'è il personaggio invecchio, il personaggio, diventa, Richard diventa padre, insomma, tutta una serie di robe, John Ston, si fidano, è un po' più telenovela, però, i personaggi mutano, quindi, insomma, potremmo fare, tra il fumetto italiano, in mobile, e quello giapponese, dove, poi, i personaggi vanno, poi, a sparire, e il fumetto americano, è una via di mezzo, ripeto, io questi disegni, li ho adorati, li adoro tuttora, mi piacciono tantissimo, questo è Conan, ne parleremo, di Ploucher en Foix, qui appare Boucher, Boucher, ma anche lui ha tanta roba, cioè, io adoro questo stile qui, perché, forse, questo è il vero stile, cioè, la mia infanzia, cioè, passando da Zagor, Tex, Capitan Miki, Comandante Marche, che leggevo, proprio, da bambino, quando ci apparlo, questa roba qui, era uno spettacolo, per gli occhi, a parte, le donne discinte, donne fantastici, quattro poche donne discinte, però, voglio dire, le tute aderenti, c'erano, era un'altra cosa, ecco, voglio dire, è stato anche un incontro, con, cioè, seguire personaggi, anche nel loro evoluzione interiore, forse con delle trame, forse, però la zia May, ci si affessionava la zia May, cioè, tutti, era proprio, come una telenovela, quindi la zia May, tutti gli amici, Osborne, amico nemico dell'uomo ragno, e, ovviamente, la prima fidanzata dell'uomo ragno, e muore, nel senso che, prima che arrivi la rossa, la bionda muore, insomma, però, lì, quella morte, aveva, non lo so, io preferivo la prima fidanzata dell'uomo ragno, però questa è la mia, quella biondina, Gwen, non mi sembra che si chiamasse, però, ho chiuso dei ricordi vaghi, prima che arrivasse, ovviamente, la rossa, che poi diventa la panchettina, poi si lascia, si piglia, si lascia, poi, alla fine, l'americano, c'ha questa idea, che, cioè, è tutto impermanente, quindi anche, pur dovendo tenersi personaggi, è ovvio che qualsiasi, l'unice, appunto, sì, ovvio, John Richard, e su Elle, sì, su Elle, su Elle, è un'altra storia, stavo, stavo, mi scrivendo, vedete, in effetti, c'ha qualcosa di Dallas, sì, in effetti, se uno ci pensa, i cartoni animati americani, e comunque, Dallas, avevano qualcosa, molto in comune, noi, da ragazzini, prendevamo in giro, chi guardava Dallas, e poi ci leggevamo, le stesse, c'è il formato carton animato, e fumetta, da sul peggio, la stessa cosa, però qui c'era, la torcia umana, noi tutti avremmo sognato, di essere la torcia umana, ci identificavamo, con questi personaggi, che, ovviamente, erano la nostra gioia, e delizia, con questo, passerei, chiuderebbi, e vi augurerebbe, buona notte, perché sono un po' stanchino, sono già le nove e mezzo, se è fatta una certa, io con una certa, devo andare a letto, perché sono arrivato a giovedì, oggi ho avuto, ieri sono stato tutto il giorno a scuola, ce ne frega, io, tutto il giorno, fino alle sette e mezzo, ho finito il collegio, quindi alle sette e mezzo, sono arrivato, verso le otto, otto e mezzo, per parlare male di Zago, perché ho detto, o qua qualcuno, mi devo sfogare, e sente lì il collega, che voglia questo, chi è che mi chiede questo, è solo il collega, è il collega, ma io e il collega non ci sono più a questo, intanto lo vedo domattina il collega, dove scappiamo, se non ci fanno fuori i barbari, siamo ancora qui, io ho già la mia armatura, sono lì, poi ho letto i fantastici, i quattro, ho visto, ho visto le mosse della costa, sono a posto, vedo, ognuno di gallo, esatto, tre metri e mezzo, lo stendo con, con la fiatata alcolica, non so, no, è suo a stendo, non c'ho neanche la fiatata alcolica, ma poi dopo mi vengo a dire, che no, non c'ho la fiatata alcolica, la fiatata di caffeina, mi mangio una cipolla, domanda, si è stata cipollosa, no, dicevo, quindi, oggi appunto ho avuto, cinque, cioè, cinque ore di lezione, che possono diventare sei, perché c'è un'ora di buco, dalle otto alle due, non puoi fare, cioè, nessuno riesce a fare, cioè, quando pensate alla vostra insegnante, nessuno riesce a stare sei ore in classe, di fila, io ho fatto quasi sei ore in classe, quattro ore di fila, una di buco, per andare in bagno, cioè l'ora di buco, è solo per andare, dopo quattro ore, perché non puoi andare in bagno, non puoi lasciare gli studi, quindi dopo quattro ore che sei in classe, hai bisogno di quelli, venti minuti, ma neanche gli schiavi, gli fai andare a fare pipì, mentre se tu posti in un ufficio, ti alzi e vai in bagno, il professore non lo pubblica fare, posso mica lasciare gli ragazzi, io vado in bagno, succede qualcosa, lei doveva, era in bagno, diceva, ma non ci doveva andare in bagno, doveva chiamare il tuo tempo alla sera, chi non conosce la scuola, non sa neanche di cosa parla, trova un custode per andare in bagno, allora, è una parola, cioè, prendi più tempo, che alla fine te la tieni, aspetti l'ora di buco, così vai tranquillo, poi nell'ora di buco, trovi sempre il bagno occupato, devi andare a cercare un bagno libero, per tutta la scuola, cosa che voi mai non potete capire, quindi dopo sei ore di consiglio, i due sono usciti, sono tornati a casa, erano quasi le quattro, quindi sono un po' stanchito, ma non sono venerdì, quindi insomma si accumula, e la settimana prossima c'è i consigli di classe, dove i colleghi si scandano, ma poi non si sa bene per cosa ci scandiamo, ogni tanto vedo questi colleghi che partono per delle cose, dei pipponi, ma che dice, ma perché, ma di che cosa stiamo, tipo gli orari, no, l'orario non va bene, no, ma perché io faccio più classi, e allora quelli che fanno più classi, tipo di fisica, di ginnastica, di ginnastica e musica, ma io faccio più classi, faccio più consigli, ma io faccio il coordinatore, cioè vuol dire, se non faccio il coordinatore, cioè, quello che non capiscono i colleghi, è che è vero, io sono di italiano e faccio due classi, però in queste due classi, io faccio un mazzo così, perché devo fare il coordinatore, devo preparare tutti io i documenti, i PDP, i PEI, eccetera, devo fare tutti io, loro semplicemente mettono una firmetta, eppure ci scrivono qualche cosina, capito, devo incontrare le mamme, quindi in realtà, è tutto un po' gebuca, tu ce l'hai più, io ho fatto sia, facendo geografia in tante classi, avevo tante ore, però mi rendevo conto, ero in una classe, ci stavo due la settimana, e te la, non mi potevano chiedere, di fare né il coordinatore, né di fare i verbali, né di fare niente, perché stavo due la settimana, e via, se te è una classe, ci stai dieci ore, te praticamente li hai adottati, questi figli, quindi in realtà, stare in una classe, dieci ore a fila, come fa l'insegnante italiano, non è la stessa cosa, starci due, perché poi, ovvio che, diventano dei rapporti, anche loro si rompono le scatole, di dieci ore a settimana, ma hanno ragione, dovremmo alternare, insomma, ma questa sarebbe un'altra storia, vedi, ho divagato, come al solito, ho parlato di cose, che non c'entrano nulla, bello, questo libro, le piante raccontano, l'impero romano, tutti passano l'impero romano, gli scacchi, devo fare un corso di scacchi, non è una complessa, ma beh, organizzano un corso di scacchi, ho molta voglia, e poi c'ho Nick Ryder, ne volevo parlare un po' di Nick Ryder, ma forse, se non, se sopravviva a quest'anno scolastico, forse lo farò, per ora passo, e chiedo.